Ciao ragazzi, nei prossimi video vi faremo vedere come si monta un piccolo impianto fotovoltaico, questo è il regolatore di carica, qui ci va collegata la batteria, qui i pannelli solari, giustamente poi ci vogliono i fusibili di protezione, e niente, mi raccomando seguiteci, qui, questa è la nostra batteria portatile che abbiamo costruito, vedete, e questo è un impianto fotovoltaico, andate a vedere gli altri video così potete vedere, questa è un'altra batteria portatile, e niente, a presto e andate a guardare gli altri video e seguiteci.